A coloro che hanno ricevuto un punteggio, i primi tre classificati, un punteggio che renderemo noto questa volta, iniziamo dal terzo classificato, che è con il punteggio di 23 trentesimi, e quindi in coro le piccole note della parrocchia sincronale di Dio, direttore di Paranateleni. Grazie a voi e complimenti a questi bimbi. Grazie.